musica 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 e poi chiedevano quale sarebbe stata l'azione manageriale più opportuna da mettere in atto, dato quel contesto del progetto. Quindi domande dove per rispondere correttamente non basta semplicemente ricordarsi qualcosa, ma era necessario fare una sorta di ragionamento in funzione del contesto descritto. I risultati di quell'esperimento, forse qualcuno di voi lo ricorderà, furono abbastanza eclatanti, perché ChatGPT rispose correttamente a 29 domande su 30. Il che, se avessimo fatto una proiezione di quelle 30 domande campione, per esempio sulle 180 che costituiscono l'esame PNP, ci portava a ritenere che già lo scorso anno ChatGPT sarebbe stato in grado di superare l'esame PNP a pieni voti. E concludevo il mio video con questa riflessione. ChatGPT ci mostra invece che, qualunque sia la vostra definizione di intelligenza, un sistema sintetico già oggi è in grado di produrre dei ragionamenti, siano essi consapevoli o meno, simulati o meno, non sposta la questione di una virgola, e di dare indicazioni decisionali in scenari di progetto reali, e ad una velocità impensabile per qualsiasi decisore umano. Ovviamente tutto è perfettibile, alcune decisioni potrebbero essere sbagliate e miglioreranno nel tempo, ma anche le decisioni umane spesso sono sbagliate, se è vero o com'è vero, che a livello mondiale, a tutt'oggi, poco più del 30% dei progetti ha successo. E questa è una statistica ricorrente, la sentiamo spesso. La fonte era il PMI, ma ci sono state altre ricerche indipendenti che più o meno hanno tirato fuori lo stesso risultato. Cioè il fatto che la maggior parte dei progetti falliscono dal punto di vista gestionale, a livello mondiale, cioè su tre progetti, due non rispettano i requisiti, oppure non rispettano i tempi, oppure non rispettano il budget. Quindi evidentemente c'è un deficit a livello decisionale, cioè nel modo in cui noi gestiamo i nostri progetti, ci sono delle carenze strutturali. E allora, piuttosto che dividerci in entusiasti della tecnologia o filosofi che negano ogni forma di intelligenza artificiale, sarebbe il caso, secondo me, di domandarsi quanto questi strumenti, e soprattutto per me è utile farlo a un anno di distanza dal testo dello scorso anno, quanto questi strumenti effettivamente possano esserci di aiuto e di supporto in una gestione reale di progetto. Perciò, a quasi un anno di distanza dal video precedente, volevo mostrarvi i risultati di un altro piccolo esperimento che mi sono divertito a fare, con ChatGPT. Stavolta però non mi sono limitato a sottoporgli un quiz, quindi delle domande più o meno difficili, tanto abbiamo visto che già un anno fa era perfettamente in grado di svolgere questo tipo di compito. Ho voluto alzare l'asticella di un bel po' perché ho effettuato una sessione di brainstorming interattiva, con ChatGPT, per il controllo di avanzamento di un progetto reale utilizzando il metodo EarthValue. Non si trattava in effetti di un progetto reale, era un progetto inventato, un caso di studio, però con dati assolutamente plausibili e realistici. L'obiettivo di questa sessione di brainstorming, del tutto simile a quelle che si svolgono all'interno di un team durante un progetto, era quello di analizzare i dati, applicare il metodo EarthValue per identificare eventuali punti di criticità o problemi in attività o linee di attività specifiche del progetto, nel caso emergessero criticità di ipotizzare azioni manageriali di controllo, di rientro di queste criticità, e infine ho chiesto a ChatGPT di generarmi un report completo di sal, sulla base di una serie di requisiti che gli ho dato, in formato scaricabile, in modo cioè che io potessi inserirlo all'interno di una presentazione, il classico PowerPoint, che poi sarei andato a mostrare agli stakeholder alla prossima riunione di stato avanzamento lavoro. Devo dire che una sessione di questo tipo un anno fa mi sarebbe sembrata impensabile e in alcuni frangenti durante appunto lo svolgimento di questa sessione non avevo l'impressione di porre delle domande ad un chatbot, ma avevo quasi la sensazione di interloquire con un membro del team di progetto, con un collega, con un collaboratore, al punto che ho smesso di chiamarlo ChatGPT, gli ho dato un nome, l'ho chiamato Vincenzo, e quindi ora vi faccio vedere i momenti salienti della sessione di brainstorming interattiva con Vincenzo per analizzare lo stato e il progresso di avanzamento del nostro progetto. Il primo step per farmi supportare da Vincenzo nella preparazione di un sal è quello di fornirgli, di condividere con Vincenzo i dati di performance del progetto. E quindi gli predispongo un foglio Excel che qui vedete come unico foglio. In realtà era un file Excel con tre fogli distinti. Su ognuno di essi c'era una delle tabelle che vedete che riportavano rispettivamente i valori di Planned Value, Earned Value ed Actual Cost relativi alle attività di un progetto appunto con una VBS a due livelli, quindi con attività padre e attività figlie, per una durata ipotizzata del progetto di 12 settimane. Quindi come vedete i valori di Planned Value che sono la tabella superiore sono compilati per tutte e 12 le settimane perché ovviamente si parte dall'avere un piano di lavoro, una pianificazione che copra tutte le 12 settimane del progetto. Invece, ipotizzando di essere alla fine della settima settimana, le tabelle con i valori di Earned Value e di Actual Cost sono compilate solo fino alla settima settimana, perché appunto poi dall'ottava in poi ancora il progetto deve svolgersi. E quindi carico il file Excel a Vincenzo, gli faccio l'upload e gli spiego che cosa gli ho caricato, perché le buone regole di prompting suggeriscono sempre di essere molto precisi e circostanziati. Quindi io gli spiego come è fatto il file Excel che gli ho caricato, che dati contiene, in che formato se li ritrova, in modo tale poi da avere conferma che Vincenzo abbia compreso, per così dire, il significato dei dati che gli ho caricato. E Vincenzo in effetti dice ok, ho capito, ora caricherò, esaminerò i dati, se li carica e poi mi dice che cosa ci ha trovato dentro. Quindi mi conferma che ha trovato dentro un foglio, un file Excel con tre fogli, in uno c'erano i valori di Planet Value, nell'altro di Planet Value, nel terzo di Actual Cost, e quindi mi dici, ora si può procedere con l'analisi dei dati, cosa ti serve? La prima cosa che gli chiedo è di fare una verifica di congruenza dei dati che gli ho caricato, perché i dati appunto di Planet Value, Actual Cost e Planet Value devono rispettare delle regole minime di congruenza. Per esempio, i valori relativi a una certa settimana per un'attività padre devono coincidere con la somma dei valori delle attività figlie. E quindi, gli dico, mi verifichi per favore che i dati siano corretti, siano congruenti? Per esempio, verificando che la somma dei valori degli elementi figli corrisponda ai valori riportati per gli elementi padre? Vincenzo ci pensa un po', e mi risponde e dice, guarda, ok, farò questo, mi spiega prima il procedimento che intende seguire, lo esegue, e poi mi riporta il risultato. Mi dice, guarda, per il Planet Value nessun problema, per il Learned Value ho trovato una discrepanza, per l'actual cost, e in effetti c'è un'attività dove il valore dell'actual cost per l'elemento padre non coincide con la somma dei valori per gli elementi figli. E a questo punto io ho due possibilità, quella di correggere il file Excel e di ricaricarlo, ma invece chiedo a Vincenzo se può farlo direttamente lui, e gli dico, senti, senza che io correggo il dato e ti ricarico il file, sei in grado di correggere direttamente tu i dati che ti sei caricato, cioè all'interno del data frame che ti sarai costruito internamente con i dati dell'Excel che ti ho caricato, sei in grado di correggerti direttamente questo dato, di modo tale che così facciamo prima, cioè non mi costringi a modificare il file e ricaricarti. Lui dice, certamente posso modificare direttamente i miei dati, li modifica, e quindi a questo punto possiamo procedere. La prima cosa che gli chiedo è di generarmi il grafico lineare per le prime sette settimane dei valori di planet value, actual cost e internet value, e di calcolarmi però per ciascuna settimana i valori dei due indici di performance del metodo earth value, lo schedule performance index e il cost performance index. Anche qui Vincenzo, prima di procedere, mi spiega appunto il procedimento. Dice, allora io per generare quello che mi hai chiesto farò così, farò questi calcoli, sommo i valori su ogni settimana in modo tale da ottenere i totali cumulativi per il progetto, mi calcolerò i valori di CP e di SP, creerò un grafico lineare, eccetera, eccetera, poi te lo genero in un formato HTML scaricabile e quindi ti avverto quando sarà fatto. Fa l'elaborazione, finisce, mi dà un link da dove io vado a scaricarmi il file e questo è il risultato, quindi un file HTML scaricabile con quelli che di fatto sono le curve ad S per le prime sette settimane, delle tre variabili fondamentali del metodo earth value, quindi plan earth value, earth value ed actual cost, specificando per ogni settimana il valore degli indici di performance calcolati secondo le formule del metodo. A questo punto inizio a chiedergli delle cose più specifiche, cioè rispetto all'intero progetto, in quale settimane e su quale attività si cominciano eventualmente a presentare criticità sui tempi? E mi faccio spiegare prima il ragionamento che segue, e il ragionamento che Vincenzo segue è quello corretto, cioè lui mi dice, allora, se mi chiedi di segnalarti qual è stata l'attività sulla quale per prima si sono verificate problematiche sui tempi, dovrò fare questo, mi vado a vedere quale attività per prima ha avuto un SPI minore di 1, quindi uno schedule performance index minore di 1, che è proprio il criterio che utilizzeremmo in questi casi per andare a verificare problemi sui tempi e in quale settimana si è verificato. Sibali, io ho dato per scontato che Vincenzo conoscesse il metodo R-Value, che quindi sapesse applicare le formule, ed in effetti sta mostrando che è così, io non gli ho dovuto spiegare nulla del metodo, anzi, gli ho chiesto delle cose specifiche che presuppongono la capacità di applicare il metodo e le formule del R-Value. Mi tira fuori il risultato e mi dice, guarda che rispetto all'intero progetto, la prima criticità sui tempi si presenta nella settimana numero 2 per l'attività con VBS Code 1.1. Vi faccio la stessa domanda riferita ai costi, cioè qual è la prima attività del progetto e in quale settimana si cominciano a verificare le prime criticità sui costi. Effettua l'analisi, anche qua mi dice, questa volta uso l'indice di performance CP per valutare questa cosa, e mi indica l'attività che è sempre quella con VBS Code 1.1, che quindi è un'attività particolarmente critica, perché è sia in ritardo che extra budget, quindi over budget, e mi dice, guarda che qua il problema si è verificato già dalla prima settimana, quindi fin dall'inizio del progetto. Già questo è un'analisi abbastanza approfondita. Vado oltre e gli faccio una domanda ancora più interessante dal mio punto di vista, cioè analizzando l'intero progetto alla fine della settima settimana, quali sono le attività più critiche su cui possiamo ancora intervenire? Perché qui la domanda è un po' subdola, cioè presuppone il fatto che tu non mi evidenzi semplicemente le attività che sono andate in sofferenza, ma quelle che sono adesso in sofferenza, perché se un'attività è andata in sofferenza alla terza settimana, ma poi in qualche modo si è conclusa, adesso siamo alla fine della settima settimana, non ci posso fare più nulla, cioè l'attività comunque si è conclusa, quello che sono riuscito a fare, sono riuscito a fare. Quindi la mia domanda presuppone un ragionamento, cioè di considerare solo le attività tuttora in corso. E Vincenzo però è furbo, è smart, cioè non è un fesso, dice guarda che allora per identificare le attività più critiche su cui possiamo ancora intervenire al momento in cui siamo, cioè alla fine della settima settimana, seguiamo i seguenti passi. Allora intanto identifico le attività critiche, cioè quelle che hanno o SP minore di 1, quindi sono critiche rispetto ai tempi, o CP minore di 1, quindi sono critiche rispetto ai costi. Dopo che le ho identificate, considero solo quelle che hanno ancora del lavoro pianificato da fare, cioè quelle ancora non terminate, perché sono quelle su cui effettivamente posso ancora intervenire in qualche modo. E infine le prioritizzo, cioè se ne trovo più di una, le metto in ordine in modo tale da dare la massima priorità all'attività più critica. E per me qual è l'attività più critica? Siccome è critica se SP è minore di 1 o CP è minore di 1, quanto più è minore di 1, l'indicatore, tanto più critica è l'attività. Quindi un'attività con SP uguale a 0,7 è più critica di un'attività con SP uguale a 0,9. Entrambe sono in ritardo, ma la prima è più in ritardo della seconda, quindi è più critica. Ragionamento che non fa una piega, cioè quello che avrebbe fatto qualunque project manager, insomma, con un minimo di mestiere. E questo è il risultato. Quindi fa l'analisi e mi tira fuori tre attività che hanno problemi sui tempi e o sui costi e me le ordina in funzione di questa priorità che ha correttamente definito. E a questo punto l'ultimo passo è ok, allora abbiamo identificato le attività critiche, le abbiamo prioritizzate. A questo punto c'è qualcosa che possiamo fare da qua in poi per cercare di recuperare queste attività, in qualche modo per mitigare il danno. E gli chiedo, prima di tutto questo, di generarmi un report completo di sala, quindi un report in formato HTML navigabile che io possa scaricarmi e magari inserire sul sito del progetto o all'interno di una presentazione, strutturato in questa serie di sezioni. Vi dico, guarda, deve essere un documento fatto così, cioè questi sette capitoli, un titolo, un'introduzione, la spiegazione del procedimento di calcolo che abbiamo seguito, il grafico lineare per tutte le prime sette settimane, quindi fino ad oggi delle varie grandezze, l'analisi delle attività critiche che hai appena fatto, quindi evidenziando quelle su cui possiamo ancora intervenire per mitigare questi effetti di crisi, e le azioni che possiamo svolgere, e infine delle considerazioni conclusive. E questo è quello che mi tira fuori, quindi mi genera il report esattamente con la struttura che gli ho chiesto, con tutte le informazioni che gli ho chiesto, ora, magari questo è un report che già può girare internamente nel team per essere presentato effettivamente agli stakeholder a una riunione di sal, magari andrebbe forse arricchito un po', ma è sicuramente un'ottima base di partenza dalla quale cominciare. ed è qualcosa che se avessi dovuto fare io manualmente o da solo, ci avrei messo sicuramente molto di più. Quindi il grafico, l'analisi delle attività critiche, le azioni che si potrebbero intraprendere, e le conclusioni. E la cosa interessante, interessante e forse di maggior valore, in questo caso, del supporto che Vincenzo mi ha dato, è anche, non soltanto, il calcolo delle varie grandezze per tirare fuori la fotografia dello stato attuale del progetto, ma la cosa di maggior valore è il supporto, l'advisoring, proprio la consulenza, su quali potrebbero essere le azioni da intraprendere per mitigare le criticità di progetto così come sono emersi. E gli chiedo, va bene, ma in termini generali, come potremmo agire per recuperare queste situazioni critiche? E Vincenzo mi comincia a dare una serie di ipotesi, di suggerimenti, per esempio mi dice, guarda, potresti provare a riallocare delle risorse, quindi spostare persone da attività non critiche sulle attività che in questo momento sono critiche, che è sicuramente una cosa che si potrebbe fare. E poi però mi ammonisce, mi dice, guarda, attenzione però, perché per la legge di Brooks aggiungere risorse a un'attività non sempre la accelera, la fa finire prima, ma rischia di ingolfarla. Cioè qua mi tira fuori una considerazione che vi assicuro, la maggior parte dei PM che conosco, anche quelli abbastanza navigati, non avrebbe pensato a tirarmi fuori. Quindi questo è un tipo di ragionamento che ChatGPT, che, perdono, Vincenzo, è riuscito a fare sulla base dei contenuti sicuramente con cui è stato addestrato, che è tutt'altro che banale, insomma, tutt'altro che scontato. E poi mi dà altri consigli, altre cose che potresti fare sono rinegoziare, se ne hai le possibilità, tempi e costi con il cliente, ottimizzare i processi, prioritizzare le attività, rifare un'analisi dei rischi, dare formazione e supporto ai membri del team, perché magari su alcune attività siamo in ritardo perché non abbiamo le competenze sufficienti o necessarie per svolgere quell'attività. Quindi una serie di consigli, monitoraggio continuo, comunicazione e coinvolgimento degli secondari, e infine mi elenca una serie di decisioni specifiche, cioè tutti i punti precedenti erano consigli generali. Guarda che in genere, quando uno si trova in una situazione così, di solito può far questo, questo, questo e quest'altro. Però ora scendiamo nel merito. Allora, per esempio, per l'attività ricicli e consolidamento, che risulta essere attualmente sia in ritardo che sopra budget, ti consiglio di fare A, B e C. Per l'attività sviluppo e test, che è solo in ritardo, ti consiglio di fare D, e così via. Cioè, prova a contestualizzare rispetto allo specifico progetto che stiamo analizzando, i consigli che mi ha dato. Ecco, devo dire che io raramente ne ho trovati per carità, ma non è così facile trovare un project manager o comunque un collega, un collaboratore, che sia in grado di farti un'analisi con questo livello di dettaglio dello stato di avanzamento del progetto, applicando correttamente un metodo, facendo delle considerazioni non solo plausibili, ma assolutamente centrate rispetto al contesto del progetto stesso. E infine, come quasi sempre fanno i chatbot, chat GPT, e quindi Vincenzo non poteva esimersi, c'è il disclaimer finale. Cioè, dice, comunque sappi sempre che io non sono veramente un membro del team, ma non sono una persona. Quindi queste decisioni, strategie che ti suggerisco, dovrebbero comunque essere valutate attentamente, considerando il contesto specifico, le priorità, gli obiettivi. Le dovresti discutere, comunque concordare con il tuo team e con gli altri se hai con il coinvolti. Quindi c'è questa professione di umiltà finale che Vincenzo fa. Dice, guarda, io ti ho detto il meglio che ti potevo dire, però, insomma, non prenderlo per oro colato. In realtà, andando ad analizzare le risposte che mi ha dato, contrariamente al fenomeno di allucinazioni o cose sbagliate che spesso i chatbot presentano come risposta, lo stesso chat GPT su domande non correttamente poste o anche correttamente poste ma su cui non ha informazioni sufficienti, spesso pur di dare una risposta la dama in modo palesemente sbagliato. Invece io, poi a posteriori, ho verificato ogni singola risposta che mi ha dato, ogni singolo suggerimento che ha prodotto e devo dire che non ho trovato nessun suggerimento sbagliato in linea di principio, nessun procedimento errato e nessuna formula applicata male o con disattenzione. Quindi ho dovuto concludere che almeno rispetto a questa attività qui, quindi a una sessione interattiva di analisi di un progetto reale, il supporto che Vincenzo mi ha dato è stato assolutamente all'altezza e paragonabile a quello che avrebbe potuto darmi qualsiasi altro collega o collaboratore. Qualche riflessione a ruota libera come se stessimo davanti a una birra su temi un po' più ampi, un po' più allargati, prendendo spunto dal piccolo esperimento che abbiamo fatto con Vincenzo. Allora, intanto è probabile che nel marzo 2025 farò un altro video in cui vedremo quale sarà lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale nel supporto alla gestione di progetti e sicuramente la versione di chat GPT che ci sarà tra un anno farà delle cose assolutamente mirabolanti che oggi non ci immaginiamo nemmeno. Ma perché voglio voglio fare delle considerazioni un po' più ampie? Perché lo spunto oltre che dal piccolo esperimento che ho fatto io mi è venuto da video e da contenuti che vedo anche in rete. In particolare mi è capitato di vedere un video di uno youtuber che io apprezzo tantissimo che sicuramente anche voi conoscerete Roberto Mercadini Roberto Mercadini ha un passato di informatico quindi di ingegnere è una persona che conosce la tecnologia quindi ha un background di tipo tecnico però ha avuto sempre anche questa grande passione per la poesia quindi adesso ne ha fatto il suo mestiere lui è un poeta è un autore e attore di teatro e il canale che mantiene e su cui pubblica i suoi video è bellissimo strepitoso lui prende dei piccoli spunti ci costruisce sopra delle storie delle spiegazioni degli approfondimenti che racconta in una maniera assolutamente avvincente e unica mi è capitato di vedere questo video di circa un mese fa dove lui fa delle riflessioni sull'intelligenza artificiale facendo un esperimento molto simile a quello che ho fatto io con Vincenzo che fanno in tanti cioè a posto delle domande a chat GPT riflettendo poi sulle risposte che gli ha dato questo video si chiama in modo volutamente provocatorio l'intelligenza artificiale non sa niente lui stesso ammette di aver voluto fare una piccola provocazione in pratica ha sottoposto a chat GPT una serie di domande non riguardanti il project management come ho fatto io con Vincenzo ma gli ha chiesto notizie di due poeti due poeti che magari non sono noti al grandissimo pubblico generalista però sono delle figure di rilievo nella poesia italiana sicuramente ben noti agli addetti ai lavori insomma a chi si interessa e si occupa di poesia e chat GPT ha risposto in modo sostanzialmente sbagliato quindi ha riportato informazioni false di Nino Pedretti che è un poeta romagnolo ha riportato il fatto che in realtà è nato in Trentino quando non è vero per niente poi si è contraddetto in una risposta successiva e infine ha ammesso chat GPT di non poter dire granché perché non aveva informazioni sufficienti su questo profilo e quindi la riflessione che Roberto ha fatto è stata ecco vedete la differenza tra intelligenza umana e artificiale è che l'intelligenza artificiale non sa niente perché anche quando vi risponde correttamente che vi risponda correttamente o in modo sbagliato non sa perché vi ha detto quelle cose perché ha generato quella risposta solo con una serie di calcoli statistici molto sofisticati ma senza nessuna consapevolezza e dice invece l'uomo non funziona così noi se non sappiamo qualcosa diciamo non lo so se parliamo di qualcosa siamo consapevoli di quello che diciamo su questo io mi sento parzialmente di dissentire faccio una piccola provocazione anch'io nel senso che ho conosciuto personalmente immagino anche voi parecchie persone che parlano senza sapere davvero cosa dicono molto spesso gli fai delle domande ti rispondono comunque anche se non hanno le informazioni per farlo però magari per non fare brutta figura rispondono lo stesso pensiamo a noi quando sosteniamo un esame o un'interrogazione ci chiedono qualcosa che non sappiamo proviamo ad arrampicarci sugli specchi cioè a costruire comunque una risposta quindi i fenomeni di allucinazione di commettere degli errori di essere incoerenti di dare delle risposte incomplete pur di darle non mi sembra questa una prerogativa esclusiva dell'intelligenza artificiale ma mi sembra una prerogativa anche di molte persone però a parte questo il video di Roberto è stato interessante perché lui ha fatto un esperimento molto simile al mio che però ha dato dei risultati assolutamente deludenti ora dove sta la verità cioè ha ragione lui che questi sistemi sono ancora largamente imperfetti oppure dalla piccola sperimentazione fatta con Vincenzo che vi ho mostrato invece no invece caspita l'intelligenza artificiale ha capacità di ragionamento perché mi dà dei consigli assolutamente professionali su come io potrei gestire il mio progetto sulla base di una serie di rilevazioni che sono state fatte in realtà non c'è una risposta va anche detto che probabilmente Roberto ha fatto i suoi test con una versione diversa di chat GPT presumibilmente la 3.5 io l'ho fatta con la 4 che ha una capacità di risposta molto più affidabile poi può dipendere anche dal tema cioè dall'argomento prescelto probabilmente tra i contenuti su cui è stato addestrato il chatbot ci sono molti più contenuti di project management di quanti non ce ne siano di poesia per esempio quindi i motivi possono essere tanti o anche nel modo in cui le interrogazioni sono state poste però tutto questo mi ha fatto riflettere pensare un po' su questo dibattito che in questo momento si sta sviluppando in modo impetuoso sull'intelligenza artificiale che è un dibattito che nel merito è probabilmente il dibattito più importante della storia dell'umanità per quanto mi riguarda ma che nel metodo è condotto purtroppo con il classico meccanismo di polarizzazione per cui abbiamo da un lato i tecnologi iper entusiasti di tutto questo è assolutamente fiduciosi che tutto ciò che emergerà da questa evoluzione tecnologica potrà essere messo a nostro vantaggio quindi potrà essere in qualche modo controllato io su questo ho i miei dubbi francamente perché se per esempio nel giro di un anno o di sei mesi o di tre mesi emergesse quella che viene detta una AGI cioè un'intelligenza artificiale generale cioè un sistema molto più intelligente dell'uomo in tanti campi contemporaneamente non so quanto sarebbe facile davvero controllarlo immaginate un gruppo di bambini di due anni che volesse controllare il comportamento di un adulto riuscirebbero a farlo? secondo me no nel senso che un adulto quindi qualcuno che abbia molta più capacità cognitiva più esperienza più conoscenza e più capacità di elaborazione troverà sicuramente il modo di eludere il controllo i meccanismi di controllo messi in atto da bambini di due anni quindi io non sono così fiducioso che tutto ciò che emergerà noi saremo in grado di controllarlo e dall'altra parte però ci sono le schiere di intellettuali di filosofi che in qualche maniera negano addirittura la possibilità che una macchina potrà mai acquisire delle facoltà o mostrare delle facoltà analoghe alle nostre figurarsi superarle quindi la macchina non sarà mai come l'uomo la macchina non potrà mai essere autocosciente non potrà mai essere consapevole ecco affermazioni di questo tipo sono oltre che rischiose perché poi stiamo parlando di tecnologie esponenziali cioè di tecnologie che la cui velocità di sviluppo aumenta sempre più si possono fare esempi anche in altri campi pensate all'industria aerospaziale ci sono voluti circa 400 anni per passare dal progetto di vite aerea di Leonardo da Vinci al primo volo dei fratelli Wright l'aereo dei fratelli Wright è di fatto l'implementazione del progetto di Leonardo che Leonardo però non aveva potuto appunto realizzare concretizzare perché ai suoi tempi la tecnologia non gli poteva mettere a disposizione un sistema di propulsione in grado di far girare la vite aerea abbastanza veloce quindi ci sono voluti 400 anni solo per passare dall'idea alla realizzazione di quella cosa e poi nel giro di poco più di 60 anni dal volo dei fratelli Wright abbiamo portato con l'Apollo 11 delle persone sulla Luna cioè in 60 anni in quel settore dell'industria è stato fatto un progresso tecnologico colmato un gap incommensurabilmente maggiore di quello che c'erano voluti 400 anni per colmare tra il progetto di Leonardo e il volo dei fratelli Wright quindi è quel meccanismo che Ray Kurzweil chiama legge dei ritorni accelerati questa è una legge che è palesemente in atto anche nello sviluppo e nel progresso dell'intelligenza artificiale allora fare affermazioni del tipo le macchine non faranno mai questo non faranno mai quest'altro più l'affermazione è assoluta e rigida e più rischia di essere smontata clamorosamente in tempi anche più brevi di quelli che ci aspettiamo ma da un punto di vista filosofico è un'affermazione secondo me fallace perché dire che le macchine non avranno mai le capacità dell'uomo è un'affermazione metafisica perché perché va oltre quelle che sono le conoscenze delle leggi fisiche a noi note in questo momento cerco di spiegarmi meglio le nostre facoltà quindi l'autocoscienza la consapevolezza di sé quello che noi diciamo ci rende umani è il frutto di una evoluzione che in particolare ha un momento fondamentale che è collocato tra i 70.000 e i 60.000 anni fa cioè lo sviluppo nel nostro cervello meglio in quello dei nostri progenitori della neocorteccia cioè di quella parte del cervello che è ritenuta essere sede del ragionamento astratto più generale e quindi che letteralmente ha fatto accendere la nostra mente ora tutto questo si può discutere sul perché sia avvenuto cioè se sia stata una evoluzione casuale un materialista vi direbbe che è stata un'evoluzione per quanto meravigliosa assolutamente casuale un uomo di fede vi direbbe che a un certo punto un'entità trascendente Dio ha infuso una sorta di scintilla un qualche elemento misterioso ineffabile all'interno del nostro cervello e quindi uno spirito una coscienza un'anima ognuno la chiama come vuole ovviamente io non ho una risposta a questo tutte le posizioni sono legittime però sta di fatto che è successo se è successo è perché non violava nessuna legge della fisica nessuna legge del mondo naturale altrimenti non sarebbe potuto succedere e allora l'ipotesi che una rete neurale profonda magari tra qualche tempo raggiunga un livello di complessità interno e un numero di parametri tale da far emergere delle capacità delle facoltà che oggi non emergono per insufficiente livello di complessità e che siano paragonabili se non superiori alle nostre capacità cognitive e di esseri senzienti è un'ipotesi che non viola nessuna legge della fisica a noi nota quindi è perfettamente plausibile è per questo che dire che le macchine non saranno mai come l'uomo non lo supereranno mai non riusciranno mai ad avere certe caratteristiche è un'affermazione metafisica perché va oltre la fisica e quindi diventa in sé indimostrabile il concetto di rispetto delle leggi fisiche è fondamentale se io propongo una teoria e questa teoria è in palese contrasto ad esempio con le leggi della fisica a noi note beh forse quella teoria è un po' debole non è così forte se domani salta su uno a dirmi che ha inventato il moto perpetuo io non lo prendo tanto in considerazione perché per le leggi fisiche a noi note e che spiegano abbastanza bene tutta una serie di fenomeni del mondo naturale intorno a noi il moto perpetuo non può esistere nell'universo in cui noi siamo collocati ma non può esistere proprio concettualmente quindi se uno mi dice che ha inventato il moto perpetuo io tendo a non crederci sta facendo un'affermazione metafisica cioè sta andando oltre la fisica ecco un po' questo è la riflessione ma allora tu che ne pensi da che parte stai io non sto da nessuna parte ho una posizione che è quella che mi consigliava il mio professore di filosofia del liceo cioè una posizione di sano agnosticismo che non vuol dire fregarsene vuol dire semplicemente che io mi pongo commente il più possibile aperta e con le antenne del senso critico costantemente drizzate e sensibili per vedere cosa accade per scoprire con grande curiosità e interesse cosa ci riserva il futuro ma rinuncio a prendere una posizione che potrebbe essere contraddetta anche solo la settimana prossima poi come al solito in questi casi chi vivrà vedrà almeno fino al prossimo video